Mi chiamo Piercarlo Saracco, faccio parte di Airforex da ormai oltre 10 anni. Sono entrato nel 2013 un po' per capire come funziona questo mondo di trading e ho trovato una situazione molto positiva che mi ha fatto crescere e mi ha fatto costruire un mio futuro personale negli anni a seguire. Ho iniziato un po' come un hobby, come un'esperienza per capire un nuovo mondo che non conoscevo assolutamente e ho trovato una bellissima esperienza di costruzione e di istruzione di un nuovo mondo e ho costruito comunque un'esperienza assolutamente buona. Negli ultimi anni ho proseguito con i corsi, con i corsi del mindset che mi ha formato molto non solo dal punto di vista del trading ma anche di vita professionale e privata e ho fatto sì che questo diventasse un lavoro e questa cosa qua mi ha dato molta soddisfazione e molta gioia perché sono riuscito finalmente a renderla un'attività, proprio così come ci presentiamo oggi, un'attività di trading che ormai faccio da circa tre anni in modo continuativo e riesco a ricavare una rendita assolutamente buona e sono molto felice di questo. Ho imparato tantissime cose e continuo ancora adesso in una crescita continua che voglio continuare a fare nel corso della mia vita per migliorare sempre me stesso.